Siamo qui con il professor Luigi De Gennaro, buongiorno, per una serie di appuntamenti sui sogni. E oggi parleremo della ricerca sui sogni, professore. Perché sogniamo? E qual è la risposta della ricerca di laboratorio in Italia e quella del Dipartimento di Psicologia? Beh, vale la regola generale. Fare la domanda più generale e fare la domanda più semplice, che poi è anche la più interessante, è sempre la domanda per noi più difficile a cui rispondere. Detto questo non mi sottrorò alla risposta, però in qualche modo è la domanda più impegnativa. Seconda nota di cautela, sostanzialmente, è a chi lo si chiede. Se invece di essere qui uno studioso di laboratorio in Psicomisiologia dei sogni ci fosse uno psicoanalista, probabilmente darebbe risposte diverse da quelle che darò io. Ma andiamo a un tentativo di risposta. Anche qui sarà un po' inconvenzionale. La risposta più vera dovrebbe essere non lo sappiamo, o meglio, non lo sappiamo ancora. La risposta più semplice, anche se più legata ormai a una convinzione maturata in questi decenni di ricerca di laboratorio sui sogni, è che noi sogniamo perché non possiamo fare diversamente, o meglio, il nostro cervello non può fare diversamente. L'attività cognitiva, la mente, è una proprietà emergente della struttura del sistema cervello, che ovviamente è quello che ci garantisce le mille funzioni della veglia. E deve confrontarsi con questo dato il fatto che per un terzo della nostra vita la mente in teoria dovrebbe andare in vacanza, ammettendo che il sonno sia uno scenario, un teatro scevro d'attività cognitiva. Bene, la prima cosa che diciamo in base a questo schema, un po' semplificatorio, e ne convengo, riduzionistico, è che la mente non può cessare di funzionare. E quindi una delle risposte, anche se, ripeto, più basata su una personale convinzione, anche su diversi elementi di ricerca, è che il nostro cervello non può fare a meno di produrre attività cognitiva. Detto questo, però, questo va coniugato col fatto che il cervello, durante il sonno, ha diverse strutture che hanno diversi caratteristiche di attività rispetto a quella di veglia, da una diversa neurochimica, quindi diversi neurotrasmettitori, in bilancio diverso rispetto a quelli della veglia. Questo significa che cosa? Significa che il cervello produce attività cognitiva durante il sonno, ma all'interno di una geografia strutturale di aree, una geografia neurochimica del tutto diversa. E quindi, evidentemente, l'attività cognitiva del sonno, quello che tipicamente noi chiamiamo sogno, assume quelle note caratteristiche che differenziano il processo sogno dall'attività mentale di veglia. Probabilmente, seguendo un copione scritto, non c'è quasi uno studioso di sonno che prima o poi non abbia incrociato la ricerca sui sogni. E così è stato nella mia storia professionale all'interno di questo dipartimento. Dopo aver, ahimè, per decenni studiato in bicarismi le basi fisiologiche del sonno, inevitabilmente, circa un decennio fa, abbiamo cominciato a intraprendere linee specifiche di ricerca di laboratorio. E sento di dire che in Italia, nel Dipartimento di Psicologia di Roma, c'è probabilmente il più importante laboratorio di psicofisiologia che studia processi unilici. Grazie a tutti.